Francesco Totti torna di nuovo al centro dell'attenzione, ma questa volta non per le gesta sportive che lo hanno reso famoso quando calciava il pallone, bensì per una vicenda che ha dell'incredibile. Sembra che abbia tradito anche la sua attuale compagna Noemi Bocchi, ripetendo così il motivo che ha portato alla fine del suo matrimonio con Ilari Blasi. La notizia è diventata di dominio pubblico il pomeriggio del 23 ottobre, quando il magazzino Gente ha lanciato la bomba con delle foto che inchiodano l'ex capitano della Roma, immortalato mentre entrava e usciva dallo stesso hotel in cui alloggiava Maria Luisa Giacobelli, giornalista sportiva. La Giacobelli ha confermato la storia lasciando tutti di sasso e Totti si trovava allo stadio del Trastevere, accanto alle mura di Villa Pamfili, quando la notizia è diventata virale sui social. Durante la partita ha cambiato espressione, consapevole che la sua serenità sarebbe svanita. Dopo la partita è scappato via rapidamente, evitando i ragazzini della scuola calcio e sparire per la strada. Intanto la Blasi è andata via visibilmente più rilassata, mentre la Giacobelli ha continuato a pubblicare storie sul suo account Instagram, chiedendo chi sarà il prossimo pallone d'oro. Alcune persone vicine a Totti hanno rivelato che le cose con Noemi non vanno bene da un po' di tempo, e infatti la Bocchi non era presente allo stadio Trastevere. Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni, ma la Giacobelli ha confermato di aver frequentato l'ex calciatore. Resta da vedere come evolverà questa vicenda. Resta da vedere come evolverà questa vicenda.